Ciao sono Marco e vengo da Edusco una Renault Zoe l'ho acquistata a maggio del 2019 l'ho scelta perché volevo passare all'elettrico da anni e ho avuto la possibilità di farlo con la Zoe il rispetto per l'ambiente e non da meno gli incentivi statali che sono stati messi a disposizione la uso nei movimenti casa lavoro e per tutti i movimenti in paese e in città assolutamente sì la ricarico alle colonnine che trovo messe a disposizione in paese a volte faccio delle gran letture in macchina o se invece ho delle commissioni da fare lascio la macchina in ricarica e io mi muovo a piedi facendo queste commissioni allora lo svantaggio sicuramente è la percorrenza e l'autonomia rispetto a un'auto a benzina o diesel e i tempi di ricarica, i tempi morti dalla ricarica invece per quanto riguarda i vantaggi sicuramente un risparmio a livello economico per la ricarica e a livello ambientale appunto di emissioni è quello che mi ha fatto il prezzo migliore